Dodicesima giornata del campionato regionale di serie D di basket di fronte il centro al cobaleno basket Solofra e il Santa Maria Vico padroni di casa di Solofra in divisa bianca bande laterali gialle colori bianco azzurri invece per gli ospiti della Santa Maria a Vico. Il primo tentativo con l'affondo di Solofra operato dal numero 15 De Vito siamo ai primi due punti di questo confronto Solofra capolista che ospita il Santa Maria a Vico che ha raccolto nelle prime 11 uscite 5 successi portandosi così a 10 punti 11 successi in 11 uscite per Solofra che questa sera vuole fare 12. Solofra che nonostante questa incredibile serie di successi deve guardarsi alle spalle perché sulla seconda piazza in classifica c'è Ercolano distante solo due lunghezze Ercolano che ha perso solo con Solofra nel turno di andata. Intanto il canestro di Giovanni Esposito Solofra 4 Santa Maria a Vico 0 buon avvio per i ragazzi di coach Iannacone. Intanto vediamo con il numero 5 della Santa Maria Vico Salanti cede la palla Moniello da Moniello a Di Marzo. Il tentativo di Di Marzo tabellone e canestro i primi due punti degli ospiti realizzati dal numero 30 di marzo 4-2 il punteggio Solofra. Riparte dalle mani di Iannicelli numero 9 per Esposito fuori De Vito Napodano su Napodano c'è Moniello Napodano spalla canestro poi si gira trova il tabellone non trova però il canestro c'è il rimbalzo offensivo di Napodano Ciprova c'è il l'intervento dell'arbitro coppia arbitrale salernitana quest'oggi qui a Solofra e intanto il fallo è il primo fallo di questo confronto ai danni di Giovanni Napodano numero 7 del cab Solofra saranno due i tiri liberi per Napodano 4 a 2 il punteggio sono andati a segno fino a questo momento De Vito e Esposito ora il primo punto di Napodano quinto per Solofra vediamo il secondo tentativo Napodano Napodano a canestro 2 su 2 per Giovanni Napodano 6-2 il punteggio Salanti Salanti scarica per Moniello la palla dalle partite di Di Marzo Di Marzo fuori siamo su Salanti ora Moniello ci prova Moniello stoppato da Napodano la palla però è uscita allora si ripartirà con Moniello numero 6 del Santa Maria Vico per gli ospiti col 5 Salanti il 6 Moniello 8 Di Vico 9 Carfora 13 Guarino 14 Ruocco 16 Mirotto 17 Vannella 19 Laudiero 30 Di Marzio coach Ciaravolo per la Santa Maria Vico fuori c'è il numero 17 Vannella il tentativo da fuori è da 3 di Moniello non va rimbalzo di De Vito poi Giannicelli Giannicelli per Napodano il tentativo di Napodano a segno a canestro Napodano 4 punti per lui fino a questo momento 8-2 il punteggio ora Moniello fuori per Ruocco il tentativo del numero 17 c'è il fallo fischiato ai danni di Giovanni Napodano a segno Vannella 2 punti per lui c'è la possibilità di un tiro dalla lunetta per Vannella 8-4 il punteggio con Vannella pronto a colpire dalla lunetta Vannella a canestro 3 punti per Vannella 8-5 il punteggio Giannicelli Giannicelli Napodano Napodano per Esposito è il fallo di Ruocco su Giovanni Esposito Centro Arcobaleno Basket Solofra che ospita in questa dodicesima giornata il Santa Maria Vico le altre gare Basketball Torre Annunziata intanto serviamo Esposito fuori per De Vito la palla che finisce sul ferro poi è il rimbalzo il Santa Maria Vico il tentativo che non va di Salanti allora Giannicelli Giannicelli per Napodano su di lui Moniello Napodano l'errore il rimbalzo operato da Vannella Salanti il tentativo del numero 17 della Santa Maria Vico che non va il rimbalzo è di De Vito Giannicelli Giannicelli Esposito De Vito Napodano Coppola questo è il quintetto al momento per Solofra a canestro intanto Giannicelli due punti anche per lui Solofra che sale a quota 10 10-5 ora è il punteggio siamo appena al primo quarto di questo confronto tra il Cab Solofra e il Santa Maria Vico gara che si gioca al Palazzetto dello Sport di Via Santa Lucia a canestro intanto è da 3 a canestro Moniello da 3 punti 10-8 il punteggio Giannicelli Giannicelli per Napodano da quest'altra parte ora De Vito su De Vito c'è Di Vico De Vito a canestro il numero 15 4 punti per De Vito Solofra che sale a quota 12 ora Moniello anzi no Salanti scusate il numero 5 Salanti su di lui Giannicelli il tentativo di Vannella coperto da Coppola poi Moniello salta a vuoto esposito Moniello può cercare il tabellone non trova però il canestro Coppola da una parte all'altra del campo Coppola il tentativo non c'è il fallo del numero 14 Ruocco si ripartirà con la palla tra le mani di Coppola l'inquadratura è proprio per il numero 10 siamo pronti a ripartire Coppola Coppola De Vito Giannicelli Napodano Napodano fuori per De Vito De Vito Esposito a canestro a canestro Giovanni Esposito quattro punti anche per lui c'è il fallo ai danni di Esposito che andrà a colpire dalla lunetta dicevo in questa giornata oltre alla sfida tra Solofra e Santa Maria c'è Capomiseno Felix Napoli Volla Torre Annunziata Basket Parete Cus Caserta Tecmania Battipaglia Ercolano Aster Saviano Rocca Rainola questi i confronti in questa dodicesima giornata ora fanno girare palla vediamo un po' i movimenti siamo al limite Vannella Vannella fuori si gira Ruocco Ruocco anzi no la palla è uscita il piede di Ruocco fuori dal rettangolo Coppola 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 De Vito Coppola che sta dimostrando di poter essere padrona di questo campionato almeno in questo girone girone B del campionato regionale di serie di Solofra che in 11 usciti ha raccolto 11 successi e questa sera insegue il dodicesimo sigillo stagionale da fuori da tre ancora Moniello 6 punti per Moniello che fa salire Santa Maria Vico a quota 11 Solofra 14 Santa Maria Vico 11 avversario Tosso almeno in questo avvio Coppola De Vito velocità Solofra Napodano De Vito Coppola Coppola si muove bene serve esposito c'è però la palla recuperata da Salanti Salanti scarica per Vannella Coppola riesce a fare sua la sfera ad andare a colpire a canestro applausi per Coppola due punti anche per il numero 10 che fa salire Solofra a quota 16 questa palla rubata di Coppola un buon intervento ora il tentativo da tre di Santa Maria Vico che non va palla fuori c'è Salanti occhio al movimento Moniello Moniello disegna una bella parabola mette dentro Moniello 8 punti è il miglior realizzatore dell'incontro fino a questo momento due bombe da tre ora piazza anche un canestro da due Giannicelli su di lui Salanti Giannicelli Giannicelli il tentativo di Giannicelli che non va esposito non riesce riesce anzino a tenere la palla in campo Ruocco consentendo a Santa Maria Vico di ripartire Salanti pronto ad operare un cambio coach Ciaravolo Coppola De Vito si gira De Vito provate ad andare a canestro nulla da fare la palla recuperata dal numero 6 Moniello 18-13 2 minuti 38 secondi da giocare del primo quarto occhio a Moniello movimento di Ruocco Ruocco ancora tabellone e canestro per Ruocco due punti per lui 18-15 sono fravanti di tre Giannicelli Giannicelli Esposito Esposito De Vito De Vito per Coppola Coppola tabellone e canestro altri due punti per Coppola 4 punti per lui 20-15 più 5 solo fra Giannicelli in pressione ora il numero 14 Ruocco siamo sempre al limite dei tre punti poi Moniello Coppola prova a chiudere riesce nella fase difensiva Esposito Coppola Napodano si gioca con grande velocità Coppola ci prova da tre punti sbaglia tutto la palla è uscita si ripartirà dalle mani del numero 6 Moniello tanto l'inquadratura per Cocci Annacone 11 uscite 11 successi è un trionfo anche per il coach solo fra che ripeto però deve comunque guardarsi alle spalle dallo sporting Ercolano che al momento ha raccolto ben 9 successi in 11 uscite quindi sono 4 i punti di vantaggio occhio ora di Marzio il movimento il tentativo da fuori sbagliato fuori misura di Mirotto c'è il fallo del numero 19 l'Audiero ai danni di Coppola la spinta di Audiero e si riparte dalle mani dello stesso Coppola l'area che è prossima alla panca di Santa Maria Vico Napodano De Vito Coppola Napodano Napodano la possibilità di colpire a canestro Napodano altri due punti per lui sale a 6 come punteggio personale 22 15 il punteggio Guarino numero 13 fuori per Vannella ci prova Vannella era da 2 il tiro Giannicelli Giannicelli da quest'altra parte ci prova da 3 Giannicelli e la mette dentro Giannicelli 5 punti per lui 25 di squadra solo fra raggiunge il massimo vantaggio si porta a più 10 25 15 il taglio di Di Marzio non va la palla recuperata da De Vito Giannicelli Giannicelli ancora controllato a vista da Guarino Giannicelli si gira Giannicelli De Vito Napodano De Vito tabellone Canestro non va esposito il tentativo di Giannicelli a Canestro 2 punti per Giannicelli siamo a 7 come bottino personale ma soprattutto 27 di squadra lo vedete dall'inquadratura di Mimmascolese 27 per il Cab Solofra 15 per il Santa Maria Avico Solofra che chiude il primo quarto con 12 punti di vantaggio il fallo fischiato a Solofra e si ripartirà con due teri liberi del numero 13 Guarino in questa dodicesima giornata del campionato regionale di serie D di basket il centro arcobaleno basket Solofra che vedete in divisa gialla e bianca intanto a segno Guarino affronta in casa tra le muramiche il Santa Maria Avico in divisa bianco-azzurra Guarino un punto per lui il primo punto di Guarino 27 a 16 ora la palla controllata da Giannicelli intanto in campo spazio per Enzo Di Lauro con il numero 16 la palla è per Esposito ha la possibilità di colpire a canestro Esposito altri due punti per lui 6 come punteggio personale 29 il punteggio di squadra 29 16 massimo vantaggio per Solofra siamo a più 13 Mirotto il movimento di Mirotto fuori a cercare la collaborazione di Vannella ora Guarino scarica Guarino per Mirotto da fuori di marzo non va a canestro il rimbalzo di Giannicelli che innesca subito Napodano Napodano il ferro che dice no al tentativo del numero 7 del cab Solofra Guarino recupera la palla si riporta da quest'altra parte sotto il tabellone di Solofra di marzo tentativo di di marzo la 2 è sbagliato poi c'è un intervento falloso di di marzo su Giannicelli l'arbitro lascia proseguire l'erroraccio di di marzo Esposito che recupera consentendo agli annicelli di ripartire Gelli Napodano il fallo è del numero 19 l'audiero ancora un fallo per lui Napodano ha la possibilità di colpire dalla lunetta 13 punti di vantaggio per Solofra 29 e 16 con Giovanni Napodano dalla lunetta il tabellone di questa dodicesima giornata Volla Torre Annunziata Capomiseno Felix Napoli Cab Solofra Santa Maria Vigo Basket Parete Cus Caserta Tecmani Battipaglia Ercolano Aster Saviano Rocca Rainola Giovanni Napodano Il primo tentativo dalla lunetta del numero 7 del Cab Solofra al momento ha realizzato 6 punti Napodano miglior realizzatore per Solofra Gianni Celli con 7 punti per gli ospiti del Santa Maria Vigo miglior realizzatore Moniello con 8 punti Napodano assegno settimo punto per lui Napodano secondo tentativo per Napodano a canestro 8 punti per Giovanni Napodano Solofra sale a quota 31 ancora massimo vantaggio per Solofra più 15 31 a 16 il punteggio il primo quarto si è chiuso 27 a 15 ora 31 16 il punteggio tentativo di Annicelli sbagliato ma c'è il rimbalzo di Esposito che si fionda lì sotto canestro 33 punti per Solofra 8 per Giovanni Esposito ancora tra i protagonisti nel quintetto di Solofra Esposito tentativo a canestro a canestro di Vico due punti per lui 18 Santa Maria Vico 33 Solofra l'inquadratura è per Iannicelli il blocco di Enzo Di Lauro Iannicelli è Di Lauro proprio a recuperare palla sotto canestro si fa spazio poi non trova la parabola giusta allora consente a Guarino di rimettere in moto Santa Maria Vico Guarino si gira sotto canestro doppio a Piroetta c'è il fallo su Guarino fischiato a Giovanni Esposito due tiri per Guarino fallo di Esposito guadratura per il tavolo in panca ora dopo l'interruzione si riparte dal numero 13 Guarino 33 a 18 in campo Tammaro per il Cab Solofra con il numero 18 assegno intanto Guarino secondo punto per lui 19 punto di squadra Gasparri e Tammaro nel quintetto di Solofra assegno Guarino 3 punti per lui 20 di squadra per Solofra con il numero 5 De Benedictis il 6 è Troisi 7 Napodano 8 Esposito 9 Giannicelli 10 Coppola 12 Pisano 15 De Vito 16 Di Lauro 18 Tammaro 19 Gasparri il 20 è De Maio Gasparri fuori per Enzo Di Lauro il tentativo di Giannicelli la palla che non va c'è il fischio dell'arbitro intervento falloso del numero 14 Ruocco Gasparri Gasparri Di Lauro Di Lauro Giannicelli Gasparri tentativo che non va la recuperata però da Solofra con Napodano a canestro Napodano 10 punti è il primo gestista a raggiungere la doppia cifra Solofra sale a quota 35 a canestro Napodano ora Moniello di Marzo Tabellone non va a canestro ma c'è il fallo commesso da Tammaro il fallo di Tammaro su Di Marzo inquadratura per il tabellone a 7 minuti dal riposo lungo 35 a 20 il punteggio Solofra più 15 fuori Annicelli in campo Coppola inquadratura per il numero 10 Di Marzo primo tentativo per Di Marzo a canestro siamo al terzo punto per Di Marzo ventunesimo punto di squadra Di Marzo ancora non va la palla recuperata da Tammaro Tammaro Coppola Coppola Napodano ancora Coppola poi Gasparri Gasparri fuori per Renzo Di Lauro ancora Gasparri momento di Gasparri forse c'era fallo tra tre avversari Gasparri perde palla ora sfera riconsegnata a Santa Maria Vigo Moniello Moniello di Marzo di Marzo fuori per Ruocco movimento di Moniello siamo al limite Moniello Moniello fuori il tentativo da due del numero quattordici Ruocco quattro punti per lui ventidue punti di squadra ventidue a trentacinque a ventidue Di Lauro Tammaro Gasparri Gasparri non va non va Gasparri vale uscita si riparte dalle mani di Coppola Coppola per Gasparri 35 a 22 10 punti per Napodano 8 per Esposito 7 per Iannicelli 6 punti per Coppola 4 per De Vito Gasparri Coppola Gasparri ancora Tammaro si gira bene Tammaro trova però il ferro 8 punti per Moniello 2 per Di Vico 3 per Guarino 4 per Ruocco 3 per Vannella 2 per Di Marzo questo lo scorra per quanto riguarda il Santa Maria Vico Di Marzo prova a girarsi chiuso da Gasparri secondo l'arbitro fallosamente allora andiamo ad a notare il fallo per il numero 19 il fallo di Gasparri su Di Marzo va a sistemare la retina Di Marzo inquadratura per l'arbitro Di Marzo dalla lunetta primo tentativo assegno Di Marzo siamo al terzo punto per Di Marzo ventitresimo di squadra Di Marzo 2 su 2 per Di Marzo 24 punti più 11 solo fra riduce un po' le distanze la formazione ospite di almeno quattro lunghezze per gli arbitri non c'è fallo su Gasparri botta al volto per il numero 19 fuori Napodano in campo Giannicelli Di Lauro Giannicelli Coppola Giannicelli ancora Coppola Giannicelli ci prova la tre la bomba che non va c'è però il rimbalzo dello stesso Giannicelli disattenta la retroguardia del Santa Maria Vico Enzo Di Lauro buono il movimento disegna con la manina una parabola perfetta i primi due punti di Enzo Di Lauro 37 punti di squadra per Solofra che si riporta più 13 buono il movimento anche da quest'altra parte del numero 14 Ruocco non l'affondo e dunque Solofra può operare il rimbalzo recuperando la sfera Giannicelli Giannicelli il blocco di Di Lauro Giannicelli a canestro altri due punti per Giannicelli 9 il bottino personale 39 di squadra Solofra si riporta a più 15 ad un punticino da quello che è stato il massimo vantaggio aveva chiuso 27 a 15 ora è 39 il primo quarto era 39 a 24 a qualche minuto dalla chiusura del secondo quarto a canestro di marzo il fallo ancora di Gasparri andiamo a guardare il tabellone 4 minuti e 21 secondi segno di marzo 4 minuti per andare a riposo lungo di marzo numero 30 di marzo di marzo a canestro 6 punti per di marzo 28 punti di squadra 39 solo fra 28 Santa Maria a Vigo Coppola sotto canestro c'era De Benedictis riesce a servire Enzo Di Lauro il movimento di Giannicelli Giannicelli Coppola Tammaro non riesce a trovare il canestro parla da quest'altra parte per di marzo ora ci riprova Moniello che da tre ha colpito due volte nella fase iniziale della partita De Benedictis De Benedictis Giannicelli Giannicelli Di Lauro Tammaro De Benedictis movimento di Tammaro era buono Giannicelli non va Giannicelli a rimbalzo tabellone poi il canestro nulla da fare si lotta sotto canestro Di Vigo e Tammaro Scintille tra i due Arbitri che richiamano l'attenzione dei cestisti in campo ora Giovanni Esposito nel quintetto di Solofra De Benedictis Esposito De Vito Giannicelli Coppola questo è il quintetto di Solofra al momento De Vito chiuso all'indietro per De Benedictis chiuso perfettamente da ruocco De Benedictis di marzo il fallo di Coppola su di marzo un altro fallo per la formazione maglia divisa bianca e gialla del cab Solofra ora le indicazioni di Coccio Charavola i suoi di marzo pronto a colpire dalla lunetta siamo sul 39 a 28 solo fravanti di 11 di marzo assegno tre minuti al termine del secondo quarto con di marzo che sale quota 7 come bottino personale 28 sono 29 ora i punti di squadra di marzo assegno 8 punti per di marzo 30 di squadra 39 a 30 Iannicelli De Vito De Benedictis ora Iannicelli De Vito Iannicelli il controllo di Coppola Coppola Esposito 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 De Benedictis Fischio Fischio dell'arbitro 2 minuti 42 secondi 39 a 30 il punteggio 10 punti 10 punti per Napodano 8 per Esposito 9 per Iannicelli 6 per Coppola 4 per De Vito 2 per Di Lauro per gli ospiti del Santa Maria Vicotto per Moniello intanto di marzo ne mette dentro altri due doppia cifra per di marzo raggiunge i 10 punti 3 per Vannella 4 Ruocco 3 Guarino 2 di Vicotto Moniello De Benedictis Coppola Coppola non va c'è il rimbalzo di De Vito poi di Esposito è il fallo ci sembra assegnato al numero 8 di Vico così è Esposito ci prova dalla lunetta Esposito messo dentro due punti in precedenza l'errore di Esposito 41 a 30 10 punti per Giovanni Esposito il miglior realizzatore insieme a Napodano e Di Marzo proprio Di Marzo il numero 30 che ci prova da 3 di Marzo non va c'è il recupero di Giovanni Esposito lotta come un leone il numero 8 del Cab Solofra ora Coppola il fallaccio su Coppola commesso da Di Vico l'inquadratura per Coppola vedete si rialza Coppola Coppola per l'intervento dell'arbitro andiamo a vedere il tabellone un minuto e 59 secondi 41 a 32 si riparte dalle mani di Coppola per Giannicelli Giannicelli a canestro Giannicelli 11 punti per il numero 9 ora miglior realizzatore dell'incontro 43 Solofra 32 Santa Maria a Vico Salanti Di Marzo siamo dalle parti di Vannella il movimento di Di Marzo non riesce a tenere la palla in campo Santa Maria a Vico allora si riparte con Giannicelli ancora un'interruzione l'inquadratura per il tabellone 1 e 36 43 a 32 solo fravanti di 11 Napodano Giannicelli Napodano 90 secondi da giocare di questo secondo quarto primo quarto che si è chiuso sul punteggio di 27 a 13 Solofra avanti di 12 punti ora sono 11 le lunghezze che separano le due formazioni Solofra a 43 Santa Maria a Vico a 32 Coppola per Solofra che rimette la palla in campo Coppola Giannicelli Giannicelli Coppola quest'altra parte Esposito Napodano Napodano che non riesce a recuperare la sfera ora si lotta con un gestista della Santa Maria a Vico a terra botta al volto credo si tratti di Ruocco si avvicinano Salanti e Mirotto anzi no è il numero 14 Ruocco si rialza ora a fronte Ruocco guardatura ora per Coach Saravolo stretta di mano con Giannicelli l'inquadratura al tabellone un minuto 8 secondi da giocare 43 a 32 in questo secondo quarto Vannella Guarino Guarino di Marzo fuori di Marzo per Vannella ora Salanti Salanti da fuori non va la palla recuperata da Esposito in qualche modo poi Vannella c'era stato il tentativo di Giannicelli di Marzo ci prova da 3 di Marzo non va Coppola Coppola che sale che sale a recuperare palla poi la perde di Marzo da una parte all'altra del campo di Marzo chiuso da De Vito ma fallosamente fallo del numero 15 43 solo fra 32 Santa Maria di Marzo dalla lunetta 30 protagonista trascinatore dei suoi realizzato fino a questo momento 10 punti dentro l'undicesimo di Marzo ancora un tentativo di Marzo a canestro 12 punti per Di Marzo 34 di squadra 43 a 34 9 lunghezze separano Solufra e Santa Maria Vigo Iannicelli Coppola che ripalla Napodano la ottiene forse c'è il fallo di Di Marzo così è proprio a pochi istanti dalla chiusura del secondo quarto Napodano strappa un fallo a Santa Maria Vigo e si presenta all'appuntamento della lunetta Napodano il primo tentativo di Napodano dalla lunetta a canestro ancora un tiro per Napodano a canestro Napodano torna miglior realizzatore dell'incontro 12 punti 45 a 34 si chiude così il secondo quarto qui al palazzetto dello sport di via Santa Lucia Solufra ancora avanti di 11 lunghezze